Alexander Lowen pubblica per Fertrinelli il narcisismo e l'identità renegata. Alexander Lowen è un medico psicanalista e si occupa di uno dei problemi contemporanei più diffusi e quello appunto del narcisismo, ovvero una deriva esistenziale che fondamentalmente si basa sulla chiusura totale dell'individuo ai sentimenti, quasi come se fosse emozionalmente uno zombie. Ma questa deriva esistenziale fondamentalmente ha due elementi, due o più elementi comunque esatti, precisi che possono essere interpretati, ovvero innanzitutto il non riconoscere determinate tendenze personali, determinati sentimenti personali che non si riconoscono come accettabili o socialmente condivisibili. Due, il rifiuto di uno shock o di un orrore che appartiene al proprio tracciato biografico e che comunque ha determinato questa chiusura definitiva dell'aspetto emozionale dell'individuo. E poi, altra cosa interessante è il fatto che, al di là di similitudini con altre patologie tipo la schizofrenia o la paranoia, il narcisismo, molto spesso ha degli elementi che talvolta si nascondono e che molto spesso sono quasi vicine alla follia.